ciao sono sulla costa azzurra stiamo andando verso nizza questo è il porto e il villaggio di caffera bello la giornata è splendida c'è un magnifico sole c'è gente addirittura che fa scinautico guardate credibile a gennaio credibile e ciò che vedete in fondo è il villaggio di beaulieu anche quello molto molto bello e questa immensa montagna è la corniche ci sono tre strade che la attraversano noi siamo sulla bassa corniche poi c'è la media e poi c'è l'alta corniche al prossimo video ciao ragazzi